Questo video preparatorio ha tre punti essenziali. Il primo punto, come ho detto, vorrei spiegare la relazione tra la vita, la biografia, la formazione, educazione, esperienza di una persona, come Winkelmann o Vasari, e la sua critica o teoria dell'arte. Sembra che la vita e la teoria stessa sono collegati attraverso un'esperienza del tempo e di un'esperienza di se stesso. Per questo vorrei sempre preparare questo video preparatorio per capire il panorama, così dove siamo e che cosa facciamo. Per esempio adesso siamo nel neoclassicismo, con Winkelmann è così di, e questo è il secondo punto, di educare a un certo modo di avvicinarsi al tema. Così sempre seguire il nostro quasi metodo, le nostre tappe. Dall'inizio, che cos'è? Il tempo, periodo, dopo di dire chi sono i pensatori più importanti, fino all'autore che mettiamo al centro, per esempio Vasari o Winkelmann, è di analizzare sia la sua interpretazione di un'opera d'arte, sia la sua teoria. E quando abbiamo tirato fuori i criteri, possiamo applicare su un'opera d'arte contemporanea. In questo senso andiamo avanti con Winkelmann. Ci sono diversi giudizi su Winkelmann. Winkelmann, dice Burkhardt, è un storico. Scrive nel suo Ciccerone 1855, cito, è Winkelmann che ha fornito la chiave per il modo comparativo di guardare. Fine citazione. Allora, Burkhardt va oltre di un confronto, un comparativo tra diverse, per esempio, tra pittura e scultura, o anche un confronto tra diversi artisti, ma lui dice che Winkelmann ha un modo comparativo di guardare. Vediamo subito che cosa vuol dire. Wetzold, invece, parla di un fondatore della scienza dell'arte. Noi dobbiamo distinguere tra le scienze dell'arte e la storia dell'arte. In un certo senso, solo in questo secolo è nato questo campo scientifico all'Università delle scienze dell'arte. Questo vuol dire non solo la storia di un certo periodo e l'opera d'arte, che è nato proprio in questo ambiente, ma le scienze dell'arte parte come Winkelmann stesso, che ha studiato la letteratura e dopodiché si è dedicato allo studio sistematico dei monumenti e, infine, è arrivato all'analisi delle forme. Così questo e la scienza dell'arte ha anche in sé le diverse tappe che io propongo proprio per questo corso. Udo Kulderman dice che Winkelmann ha scoperto la storicità dell'arte e l'ha trasformata in oggetto di valutazione scientifica, cosa che ha portato alla distinzione tra la storia dell'artista e della storia dell'arte. Così, anche questo Winkelmann ha superato. Non ha solo parlato dell'artista e la storia dell'artista, ma lui ha distinto tra la storia dell'artista e la storia dell'arte. Così vuol dire che, come abbiamo detto all'inizio con Vasari, c'è proprio l'arte che ha il suo contesto e anche il suo modo di svilupparsi accanto alla storia dell'artista. Come mai è arrivato a questa distinzione? Perché con l'antichità, con la scultura antica, forse non conosce neanche l'artista, ma può fare un discorso profondo sull'oggetto stesso. Questo, lì è nata proprio questa distinzione tra artista e l'oggetto, l'opera date. Sedlmayr parla più del suo metodo, come un lavoro specifico sull'opera per svelare nuove informazioni. Così, il modo come Winkelmann l'ha fatto, ha guardato un'opera d'arte, è proprio un modo di tirare fuori informazioni che vanno oltre della storia dell'artista o storia dell'oggetto. Vediamo subito. Ma Winkelmann non è solo moderno. In lui si nota anche, così si dice, la discrepanza tra l'antico e moderno. Ma la prima cosa che si riscontra per la modernità di Winkelmann è il suo modo di pensare non moderno nel senso di valutare troppo l'estetico. Così, la sua pretesta profetica di creare con l'aiuto della storia l'edificio dell'insegnamento, ultimo della bellezza e dell'arte, è che ha suscitato molte critiche contro di lui, a volte estremi, denunciandolo proprio l'ideale del suo classicismo nato da un piccolo antiquario tedesco omosessuale. Questa è una critica molto importante perché la sua omosessualità, forse, così dicono questi critici dell'arte, ha un po' avuto un influsso su come vedere una figura nuda, maschile. E così anche il suo ideale, forse, di partire da un ideale, come abbiamo detto all'inizio greco, di un corpo ideale, sensuale, erotico. Ma queste, diciamo, sono tutte le novità e tutte le critiche, entriamo nel suo pensare stesso. Winckelmann dice che normalmente i viaggiatori che vengono a Roma hanno solo un interesse antiquario, storico. Questa è la critica di Winckelmann. Winckelmann critica la stessa cosa che rimproverà anche agli eruditi del suo tempo. La raccolta di tante informazioni, ma l'incapacità di afferrare la profondità dell'arte. Così, questa capacità di afferrare la profondità dell'arte non è una cosa attinente all'erudizione, ma piuttosto una esperienza che si deve imparare, una capacità che si deve esercitare ed educare al sentimento e alla comprensione della bellezza. Questo è un aspetto fondamentale nella critica dell'arte di Winckelmann. Lui dice che trascurare la capacità per l'arte vuol dire o significa essere un mezzo uomo e perdere la più grande possibilità di essere felice. Allora, adesso entriamo in un aspetto nuovo che confrontarsi con l'arte è proprio un modo di diventare uomo. Ancora di più in Winckelmann è proprio la possibilità di essere felice. Così, cito, questa abilità è una cosa speciale data dal cielo che rende possibile il godimento della bellezza e della vita. Così, Winckelmann crea un ideale, ma questo ideale diventa un ideale generale. Lui scrive ad un giovane nobile, cito, «Lei deve godere la bella gioventù fuori della follia delle corti per vivere se stesso e dopo lei deve insegnare anche ai suoi figli e nipoti secondo il suo esempio». Così, si potrebbe affermare che Winckelmann è uno dei fondatori della storia dell'arte che ha sottolineato come la cosa più importante è l'essenza dell'arte nella prospettiva della dimensione umana. Allora, non come Vassari prima che ha detto «Ok, lo sviluppo dell'arte, della storia dell'arte è proprio uguale, analogo allo sviluppo dell'essere umano, ma lui dice che l'essenza dell'arte, così arte stessa, è proprio un divenire umano. Così, nel suo libro, questa cerachia è descritta chiaramente perché egli non vuole raccontare lo sviluppo dei tempi, ma cogliere l'essere, la natura dell'arte. Così lui riduce tutte le informazioni di cui si sono serviti prima gli studiosi della storia dell'arte e lui vede l'eccezionalità dello storico dell'arte nella comprensione della natura interna dell'arte. Come una guida qui a Roma ha sviluppato un entusiasmo missionario per far capire ai suoi contemporanei l'essenza e la natura dell'arte. Cito «Sono venuta a Roma per aprire gli occhi e ci sono così tanti che vengono come pazzi e vanno via come asini. Non hanno capito e non volevano capire qualcosa. Non ha senso insegnare a queste persone». Vediamo qui una critica molto profonda. Nel suo libro, nella Empfindung des Schönen in der Kunst, che vuol dire la sensibilità per la bellezza nell'arte, Winckelmann si lamenta di un giovane inglese che nella macchina, mentre lui faceva una conferenza sulla bellezza dell'Apollo del Belvedere e su altre sculture della prima classe o del primo livello, questo ragazzo non ha dato segno di vita. Per queste persone, dice lui, le vere bellezze dell'arte sono come la luce del nord che brillano ma non riscaldano. è una citazione fondamentale perché per lui arte deve toccare, deve commuovere e se non lo fa non è il problema dell'arte, è il problema nostro. Così, l'ideale che Winckelmann metta al posto dei vecchi motivi è molto esigente e pretenzioso, in un certo senso, perché non si limita solo al sapere o all'accoglienza semplice, obiettiva dell'informazione, ma con la sua osservazione vuole coinvolgere e commuovere l'uomo intero che deve sentire un movimento dentro di sé, deve sviluppare le sue capacità e cambiare. Così non è l'ideale delle scienze, ma è un ideale etico. Etico e sensuale. Così l'arte non lascia accogliere come le scienze, ma richiede una disposizione interna, personale. Così cito, non vedeva gli oggetti date come qualcuno che ha visto prima il mare e dice che è bello di vederlo. Questo fatto di non essere impressionato, l'ho dato da Strabo, succita apatia. Mi piace per la morale, ma non per l'arte. Cito, nell'evento dell'arte regna un istinto intero che prevede la bellezza e la cerca, costringe l'osservatore di liberarsi dei pregiudizi moderni. Chi non capisce la bellezza di un'opera d'arte eccezionale deve credere che esiste, e deve cercarla per forza. Così, questo è interessante, la ricerca della bellezza non viene promossa dalla passione inquieta, ma dalla disposizione calma. Si deve avvicinare alle opere d'arte dell'antichità con la speranza di trovare tanto. Si deve cercare tanto, si deve guardare con tempo e con calma, perché non si vede subito il tanto nel poco. Fine citazione. Vediamo qua un approccio scientifico, contemplativo e anche sensuale. non è solo una domanda del sentimento, dell'emozione, dell'arte, ma l'osservazione non ha bisogno solo di un uomo che sente, ma anche di un uomo che pensa. E così, nemmeno il ricercatore non si deve distrarre dall'essenza dell'arte per passione dell'erudizione pura, così come neanche l'osservatore non deve lasciarsi sedurre solo dalla forma dall'aspetto del lavoro. Così l'osservatore deve valutare se l'artista ha pensato in un modo non condizionato, se ha capito l'antichità, se ha imitato o solo copiato. Questo è Winckelmann. L'osservatore non deve solo sentire, ma anche spiegare le ragioni per cui qualcosa è bello. fine citazione. Così Winckelmann ha descritto il suo metodo in forma di un programma e questo vuol dire dalla capacità del sentimento della bellezza nell'arte e nell'insegnamento. E così vediamo proprio una idea fondamentale di di Winckelmann che il suo modo di vedere le cose è già qualcosa per educare se stesso nel vedere di quasi di poter essere capace di spiegare perché vedo o non vedo una cosa e che cosa vedo e allo stesso tempo di essere capace di insegnarlo agli altri. Così è una pedagogia dell'arte molto complessa che adesso nasce con Winckelmann. Così Winckelmann è un metodo è uno stile è un'analisi ma anche una pedagogia. Così sono sei punti. Primo punto sentire la bellezza è una capacità naturale dell'uomo che è collegata con la morale e la forza fisica dell'uomo come l'eros che nasce nel giovane così nasce anche questo sentimento nel bello. Secondo questa capacità si sviluppa non solo con erudizione ma anche con una buona educazione. Gli scrittori antichi insegnavano o insegnano come il sentimento può toccare l'uomo con molta tenerezza. Un giovane deve essere incoraggiato alla letteratura dei poeti antichi e allo stesso tempo i suoi occhi si devono abituare alla bellezza nell'arte. Così occorrono sensi fini terzo punto e sensibili e non solo nel guardare. Quarto questa possibilità di vedere la bellezza coinvolge tutto l'uomo e per questo è possibile solo quando la persona è quieta ed ispirata. Quinto ma l'unica possibilità di imparare a vedere la bellezza nell'arte è di vedere gli originali. Anche le coppie calci monete possono aiutare. Solo gli originali possono suscitare un vero sguardo e come di vedere una persona vera davanti a noi e di vedere una persona nel video. È un'altra presenza è un'altra realtà e un'altra verità. Questo ideale l'ultimo punto dell'osservazione dall'arte non è una cosa sentimentale come si potrebbe pensare ma richiede la capacità critica dell'osservatore. Così un osservatore deve essere capace di riconoscere i pezzi moderni che sono stati attribuiti alla scultura antica. deve riconoscere dove l'artista si è allontanato dalla bellezza e soprattutto deve riconoscere i diversi valori degli oggetti d'arte. Per questo ha descritto Winckelmann le opere d'arte come un aiuto per gli studenti un aiuto per le persone quasi di educare allo sguardo. Winckelmann voleva che si preparasse altre interpretazioni di altre opere d'arte in questo modo per l'insegnamento degli artisti dei giovani viaggiatori e anche per tutti gli altri. Così il metodo dell'osservazione di Winckelmann è diventato così famoso per le conseguenze di due interpretazioni Apollo del Belvedere nei musei vaticani e il torso. Così noi domani vediamo in profondità l'Apollo del Belvedere con gli occhi di Winckelmann e cerchiamo di creare i criteri che possono portare a uno sguardo che possiamo applicare sull'arte contemporanea. Grazie mille Arrivederci di Winckelmann di Winckelmann